Tutorial come suonare Golden Hour, una delle intro più belle di quest'anno, facilissimo. La mano destra fa così. La mano sinistra invece fa così. La suono con la destra solo per farvi vedere meglio le note. Ovviamente dovrà essere suonata con la mano sinistra in questo modo. Eccetera eccetera. Unendo tutte e due le mani otterremo questo. Eppure è un bello fat.